Musica Guten Morgen, alle ausgeschlafen? Ja, nach einem ganz anstrengenden Tag gestern mit Workshop habt ihr hart gearbeitet. Heute sind die Aufführungen dran. Ich habe so das Gefühl, dieser Tag kommt doch. Ich weiß auch ein festes Haus, und dann leg die Mücke auf, leg die Verwärter weg, lebt den Film so wie ich. Mein Nachbar und ihr zwei, ob er will oder nicht. Wir sind gut, wir sind gut, wir sind in der Sieg, 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 wir sind in der Sieg. Meine Arme, um gleich hier anzutragen. Ich bin wieder freund, wieder schön. Ich kann ungeleitend nach Hause gehen. Ich will auch den Bestimmang. Ich will den Bestimmang. Ich will den Bestimmang. Ich hoffe, bis jetzt! Die Karte, Kompete, ich sag sofort, Computer, Rang und Telefon. Wer dreht den Koffer beim Kaulen weg, immer zu einer Seite. Nein, nicht so. Aber jetzt, äh, willst du Regenschirmer? Ich mach die Gipfarm-Sporta nur fünf Eure. Du in deinem Regenschirm, du in deinem Regenschirm. Freuheit! Da hinaus, nicht um die Welt, ist das Grab draus. Ich erinnere mich an mein Land, wo die Leute bunt gekleidet sind und an die komische Musik und an die Rigsdorf. Ich erinnere mich an die andere Gruppe, die... 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 die Breben-Stand Musikanten. Marmelade, glasieren und danach portionieren. Amen! Questa esperienza ci ha aiutato molto a migliorare, a legare più i rapporti con i nostri compagni e anche vedere gli altri ragazzi come si sono cimentati nell'esperienza trattrale, ci ha fatto capire soprattutto l'impegno che ci vuole per fare una determinata cosa, tutto il tempo, la dedizione. I ragazzi riescono tramite l'espressione a sciogliersi dagli schemi, come diciamo la sintassica è ovviamente diversa e le difficoltà anche di pronuncia e la lingua diventa loro e questo secondo me è importantissimo. Di sicuro qualche cosa è cambiato per quanto riguarda il tedesco, sono proprio diventati bravi anche nella pronuncia e abbiamo già progetti, magari adesso stanno prendendo contatto con gli altri ragazzi tedeschi e non è detto che magari si possa andare anche in Germania. più rapido ancora? e comincio a accelerare semplicemente entro in uno spazio dove tutto è possibile e questa poi diventa la nostra realtà per quelle due ore, per quell'ora in cui stiamo dentro questo spazio e raccontiamo storie dove tutto è possibile. e quindi Scusate! 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 Adesso italiano tedesco italiano tedesco 5, 6 Se siete stanchi facciamolo da fermi ma facciamolo già come se volate e Urre! Abbiamo avuto molti le che ci facciamo un altro re Un König! Abbiamo avuto molti le che ci facciamo un altro re Un König! Abbiamo avuto molti le che ci facciamo un altro re 5, 6, 5 e lei mi condurrà e uno Wow! Questa mano dice molto brava! Che è così? Mi ha lasciato un senso di responsabilità perché comunque ci vuole grande impegno per preparare un'esibizione come classe ci ha unito molto e quindi mi è piaciuto anche per questo oltre ai viaggi alle persone nuove conosciute e anche l'esperienza con il regista che lavorare con il regista è stato fantastico che sia un po' pesante però è stato fantastico Ho trovato una mano nell'acqua Mi sono anche trovato una mano nell'acqua Partiamo! 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 Stare la luce! Che è luce! Partiamo! Chiusi! Condici! Partiamo! Mi cominciò anche un po' da terra, sono stanco, siamo ancora in la barra, con un po' di la luta, piano, senza parlare. Il ruo e flaccio del Mittermeer e il schiume e riuscita del Mittermeer dell'Atlantico. Vedo arrivare i viaggiatori temerari e dico loro, gebt mi eure sterbliche hülle, dort, dove io ingegno, trauttiere si non più. Abbiamo capito cosa si prova a fare teatro e lo consiglierei a tutti perché è proprio una bella esperienza e ti costruisce. Magari quello che non riusciamo a fare in 15 lezioni, in 10 minuti di spettacolo diatrale, viene fuori in maniera straordinaria e potente. Grazie. Grazie.